Sono 75 giorni Roberto che noi ci interroghiamo su che cosa abbia davvero in testa Putin alla luce di quello che ha detto. Tu che cosa credi che voglia fare adesso Vladimir Putin? Io proseguo nella direzione che secondo me giustamente Tiziana Ferrari indicava prima. Questo non è il discorso di battaglia a tutto spiano che molti si aspettavano e credo soprattutto noi in Europa dobbiamo cogliere questo elemento. Dopodiché la Russia attuale è un paese sotto stretto controllo dei servizi di intelligence, l'intera popolazione e quindi Putin sa perfettamente quanta parte della popolazione russa è molto perplessa su quello che accade e naturalmente si guarda bene dal dirlo nelle forme con le quali siamo abituati a farlo noi nel mondo libero. Però i servizi di intelligence sanno ascoltare anche quello che non viene detto ufficialmente o quello che non viene scritto su giornali che non possono essere pubblicati perché chi provasse a scrivere le cose in un certo modo finirebbe in prigione nella Russia di oggi. Di conseguenza anche io penso che si sia trattato di un discorso molto rivolto all'opinione pubblica russa, a rassicurarla, a sollecitare quell'orgoglio nazionale che c'è proponendo una parata militare estremamente spettacolare che a mio giudizio guardando allo stato attuale delle forze armate russe è come se noi potessimo quasi osservare che oggi sanno fare meglio le parate della guerra. Allora questo è...